Adesso, Paolo, Henk, spezza. Non fare quel gesto lì, per favore, Henk. Esatto, vai, spezza. Perfetto, ci sarà, ci sarà. Una, rivi, quanto ci giochiamo? Io sono brillo, hai bevuto? Allora, sapere se siete equamente modificati? Hai bevuto? No, grazie, serbato. La puoi bere, la birra, almeno? Io sono abbastanza andato. Ma perché devo bere? È per essere al mio stesso livello intellettivo. Ma, figliati, tu hai un livello talmente alto che con una birra già lo sei. Ma stavo perdendo l'altra volta, mi muovo a casaccia. Non è vero, non è vero. Lo sai cosa ti può fare questa birra? Ti può far dire, cavolo, vado, sono un po' senza preme inibitori, Vado diritto al re, capito? Ti può dire, non ho paura, non ho paura delle sue contromosse, vado diritto al re. Allora, faremo una sfida, nel frattempo faremo una sfida di scacchi, io contro Paolo. Quante sub ci giochiamo, Paolo? Io quante sub ti ho dato? 20, giusto? 22. 22. Ci giochiamo per il 22 sub, va bene? Sono a Brillo, Andrea, mi stai rubando i soldi, sono veramente infermo. Grazie per i 10 mesi. Ok, allora scendiamo e ne facciamo 60, va bene? Quante? 60. 60. Ah, 6 e poi ti muti, ma sembrava un simpaticone. Allora, ne facciamo, facciamo così, facciamo tre, da, sub. Ma sei veramente un intrattenitore nato, Andrea, guarda che lo dovresti fare di lavoro, cazzo. Che gag. Senti, scommettiamocene 22. Ok. 60? Se stai zitto, acconsenti, eh. Io non ho la sub da Omi, eh, ci tengo a dire, quindi. Vabbè, mandami il link, mandami il link. No, guarda, Paolo, Paolo. Perché ti spacco il culo, mandami il link! Sì, 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 fai, bevi due gocci, facci i cargarismi e poi sputoli per terra, magari, anche. È già successo con il Frosky in Outdoor? Sai, 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 sai che mi ricordi, sai che mi ricordi, quelle spogliarelliste che io ho filo a bere e bevevo l'acqua. Ecco qua, fai schifo, Andrea, fai schifo. Adesso, eh, mandami il link, mandami il link. Sto vedendo, puoi iniziare la partita. 30 minuti a testa, inizia il primo minuto qui per Andrea Chimi. Apertura classica dal lato bianco, da parte sua. Ora puoi anche senza pungerti, eh. Scusatemi, scusatemi. Non ha il microfono, Andrea, se ne è appena accorto, adesso lo fixa. Scusatemi. Apertura classica anche per Paolo Cannone? Ehm... In realtà no, in realtà no, fa una mossa da squilibrato. Eh, che però Andrea non coglie, va bene. What the fuck? Ma... ma... Cosa sto vedendo? Cosa? Ti stai girando gente di cielo, coglione del cazzo, eh. Perché? Cos'è successo? Ma non si sente me, eh? Non mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. La gente non mi sente, bu. Ah, vabbè, dai. Vabbè, dai. L'ho trollata, l'ho trollata. Dammi questi soldi, dai. Ok, video come fare i soldi. Li faccio fare a te e poi ti derubo in live. Sì, sì, sì. Facendogli fare ancora più soldi che puoi rubare. È una cosa... Paolo, Paolo. A me non mi è piaciuto questo atteggiamento, eh, da parte tua. Prova, prova a inventarti uno scam, Andrea inizia a urlare ubriaco e a vomitare per tutta la casa. Non ti permettere, eh. Non ti permettere a scammare. Ti vedo già con il sorriso alla scammer. Siediti. Non mi è piaciuta questa. Siediti e gioca. Siediti e gioca con due pezzi in meno. Siediti. Non tutto è perduto. Non tutto è perduto. Puoi essere come Bobby Fischer, che dava i pezzi gratis per poi fare una vittoria a remontare. Ai poveri. Vabbè, le agitazioni scacchissiche, vabbè. Ho tutto, tutto. Posso parlare di tutto, non è che di gunghie. Anche se a dire il vero, la ex che era molto, molto, molto informata. Ma io ora... E poi sei possessore di un... Oh no, l'ho trollata. L'ho trollata. L'ho trollato. L'ho trollato. L'ho trollato. Eh, è un po' così. È un po' così. Un po' così. Paolo Cannone dispone i suoi pezzi come un generale dispone la sua armata. Pusha midden, anzi no. Va con il fanti in avanti. Sblocca un po' di pezzi. Sviluppa, sviluppa, però. Sviluppa l'azione. La chat esplode, 22. Non sembra nemmeno più la live di Omia, tol. È tutto perduto. Brain lag. È ubriaco, ma è pieno di sé. Pieno di sé. A bocca, non spammano pure. Guardali, guardali, guardali. Ok, non gioco. Io lo faccio aspettare 30 minuti. Classicone, classicone. Provo a drenarlo mentalmente. Non hai capito nulla, Andrea. Sono immortale. Sono immortale. Ho raggiunto il Nirvana, cazzo. Il para... Oddio, mi ha pushato pure lui, cazzo. Come risponderà Paolo Cannone a questo attacco? Deve decidere, deve farlo in fretta. Rischiare di perdere un alfiere gratuitamente. E sarebbe un vero peccato. Ha un'idea, però. Vedremo come la svilupperà. Opla, piccolo pussyback. Ok, eh. Dico... Ok, lo sai adesso cosa faccio. Ok, lo sai, freestyle durante gli scacchi. La gente ci guarda, sono tutti matti. È un gioco vecchio di duemila anni. O mi ci mette le mani, fa solo danni. Non vorrei mica essere nei tuoi panni. Mi hai regalato 220 euro. Togli uno zero e fa 22. Sei proprio un cornuto, mica un bue. Ti vedo bene. Con l'asinello. Shut up, un secondo, Ello. Let's go. Let's go. KS, 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 KS. Grazie, dai. Scusate, mi sono teso. Sono teso. Sono teso. Cosa? No, non fare uno, eh. Non fare uno, eh. Ho detto niente. Anche perché è tutto risolvibile. Vedo che Andrea sta solamente leggendo la chat in cerca di consiglio. Non sto leggendo la chat. Non sto leggendo la chat. No, no. Sono passi circa 4 secondi verso lo schermo laterale. Ma nessun problema. Ma stavo cercando di leggere la chat. Ma non la sto leggendo. Ma stai tranquillo, ma stai tranquillo. C'era un problema di audio, magari, Paolo. Che ne sono? Guarda questo piccolo attacco che hai fatto al mio pedone che hai difeso così male. Guardalo questo attacco. Chi l'avrebbe mai detto, eh. Un giocatore inesperto come Ometol eppure così forte. Ma io non ci sto, eh. Io non ci sto mica, eh. Grazie, Fade. Dico una cosa forte. Anche se Andrea ha perso due pezzi, sta sviluppando più di te, Paolo. Ti dico questo. Ti voglio dire questo. Io ti dico che non hai visto ancora una cosa, tu. Ti dico questo. Se io sono una mamma informata e tu no. Non c'è. Ma stai parlando, ragazzi? No. Ok. Avevo paura che avessi trattato il più fino. Grazie, Scam. Piccolo Omi, lei è il Mastro Scammer. Qua bisogna ingegnarsi. Passa il controllo del gioco ad Enk tramite TeamView o programmi simili. Bisogna scammarlo. Stop a Ollone dovrebbe sapere a cosa va incontro. Oh. piccolo troll piccolo troll piccolo pulizia è tesa c'è stato più un cavallo a distanziarli e Andrea ha i pezzi messi meglio inoltre ha anche sbloccato la capacità di fare una cosa l'arrocco bravo un arrocco lungo e il castello è anche ancora integro quindi è piacevole Paolo mi sta scammando no no sto leggendo cioè giusto Dio metti sull'emoticon no no mi sta scammando nel senso che assai di aver vinto Paolo e mi stai facendo aumentare questa agonia mi hai anche fatto bene ma hai mosso? si che cazzo faccio? sono emoticon Andrea guarda che ti vedo con la cone dell'occhio che guardi alla chat infamello infamello ma sto sto guardando di qua non so se stai vedendo che ce l'ho di qua dall'altro schermo dall'altro schermo e tu so che mi guardi la live per cui capisci le mie mosse grazie notifiche del computer vuol dire capisci le mie mosse come se stiamo giocando a Yu-Gi-Oh l'installazione di TeamView è avvenuta con successo ora puoi fare controllare il tuo schermo da un amico nuova notifica in arrivo e ha richiesto di accedere al tuo computer premere su sì per consentire l'accesso Andrea devi disattivare l'audio cosa? hai lasciato l'audio di TeamViewer no vabbè anche mi stai trollando dai grazie Antonio scusami per averti scammato la sub scusami un attimo ragionando a livello ludopatico grazie la po' bentornato hai spostato la regina? perché mi hai scritto un messaggio su whatsapp Andrea? ah volevo scriverlo a Ivan ho sbagliato perché te l'ho scritto a te? mi hai chiesto che mossa devo fare no 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 non ho scritto a te non ho scritto a te Paolo ti voglio davvero bene Andrea comunque sono felice del lavoro che stai facendo perché non rispondi ho detto delle cose dolcissime sto cercando di sviluppare un piano d'azione un piano d'azione anche a 30 minuti ha messo sto pazzo di grazie per i due mesi ha senso? ha senso perdere una regina? grazie Silberius e adesso? grazie viaggio stai indirittando Paolone? ps vai su whatsapp web clicca con il desk disattiva la video del sito che vedi 13.000 persone ogni volta che direi un messaggio Enca sono davanti a casa tua Esci che facciamo i conti grazie Bonnie grazie a tutti grazie a tutti ciao Andrea è inutile che mi chiedi consigli su come chiedere Paolo quando mesi fa non mi hai passato il numero di Camilla messaggio in arrivo da Kalesan perché mi hai chiamato? ti richiamo io dopo Andre grazie Carlo scusatemi ragazzi sono in tension scusatemi sono in super tension mi hanno detto a bocchia tol tutti i domi dicono però tanto io il mega mia mostra l'ho già fatta sfortunatamente come cacchio faccio? no perché perché è qua? perché la mia torre nessuno mi ha detto che la mia torre era lì grazie Omega ma mi stavo stavo facendo tutta una strategia il tempo passa passano le ore minchia se perdi per il tempo ridò troppo cazzo no 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 Paolo io ho la torre lì non era lì la mia torre perché è là la mia torre? devo fare un arrocco il king delle droghe ho perso grazie Gabriele scusami ho perso ma che è quella roba? non posso fare l'arrocco sì che puoi lo fai dall'altra parte ovviamente non posso perché la torre è qua ma dall'altra parte l'arrocco si fa da due lati uno è lungo uno è qua e ormai ma non me lo faceva fare ma sì che si può fare se non hai mai mosso quella torre e il re puoi fare l'arrocco lungo Paolo posso fare mi puoi muovere due pedine così a caso? mi dai questa clemenza di fare l'arrocco arrocco lungo? non ti sento più Paolo Paolo? Paolo? grazie si recchiere vabbè ma ti date suggerimenti dai che schifo di merda ma non l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto non ho fatto un'altra cosa ma non fai la prossima mossa no? ciao Andrea ma io non lo faccio se tu mi vai fare l'arrocco grazie finalmente possiamo organizzare quel festino con Deniz Pipitone sono veramente contento un bacino a un metro di mi fai fare l'arrocco? dai fra ce la puoi fare non lo puoi più fare l'arrocco eh me lo fai fare tu io sposto muovi la regina in alto e indietro io sposto non puoi fare l'arrocco ma non è illegale fare l'arrocco che non lo fa fare il videogioco ah neanche a te grazie a domande di 5 euro io ancora posso ah no perché a me non me l'hanno fatta e perché avevo questa è che hai mostrato le torri per sbaglio l'ho mossa grazie ma accetto l'ho mossa per sbaglio coglione l'arrocco si può fare solo se la linea dell'arrocco non è sotto attacco e la regina di Paolo sta attaccando casella di un oltreomi il cazzo di alfiere sta attaccando la torre cazzo mangiala bella omi KS 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 O O? E? E? Ma ti rendi conto? io soffro lo stress io soffro lo stress ci sei un errore sono in una boy band grazie Alessio grazie Alessio grazie Alessio grazie Alessio Pensavo di poter fare l'arrocco Pensavo di poter fare l'arrocco E i piani mi sono saltati Mi sono saltati tutti i cazzo di piani Oh, lo dico Tutti i miei piani sono saltati Sono a puttana i miei piani Ma perché mi avevo giocato la torre? Perché tu poi mi arrivavi con la regina E facevi un casino Sembrava un babbo di minchia Grazie a tutti Sai che soffro lo stress Sono in una boy band Sono in una boy band Meno 15 Che cazzo vuoi? Vuoi far pensare o no? Sono in una boy band Sono in una boy band Ci deve essere un piccolo errore Perché sai che soffro lo stress Io soffro lo stress E poi sono in una boy band E sono in una boy band Ci deve essere un errore Soffro lo stress Sai che soffro lo stress Sono in una boy band Sai che sono in una boy band Mamma mia Mamma mia ti rovino Lo vedi quel pedone? Lo vedi quel pedone? È mio Ma quanto sei abbocchiato? Eh? Oh? Ma ti rendi cosa? Scusami Paolo Hai voluto fare il pedone? Non ti sento Ti sei mutato di nuovo? Mamma mia Guarda la stream Wow Come sei edgy Immagino che La notte prima di andare a dormire Guardi i video di Non lo so Tu mi hai scammato Tu mi hai scammato facendovi bere Mi hai tirato nella tua trappola psicologica Dai Mi hai tirato nella tua trappola psicologica Dai Lascia quel pedone E andiamo avanti Dai 13 minuti Finisce questa agonia Comunque sono due partite in dieci anni Contro Paolo che fa il figo Sono ubriaco Bevi pure tu Fai questo Fai quell'altro Ho fatto un sacco di errori questa partita Sono scarsissime Non mai quanto me Tu non li punisci E vabbè ma gioco a scacchi da tre giorni Paolo Che cazzo vuoi dalla mia vita? Che cazzo vuoi da un servo Che cazzo nuovo a scacchi da tre giorni Ma presenta inscrizione No i ti Vi hai scasso ERIC Non lo so Che mi hai mangiato? Un cavallo? Grazie Pennucci Non so ancora se hai perso la partita o cosa? Potrò aver perso una battaglia ma sicuramente non ho perso la guerra Paolo Sono in una boyband lo sai Paolo come si chiama questa boyband secondo me non si chiama Soffro lo stress io soffro lo stress Grazie Tic tac Tic tac Il king delle droghe Grazie Daniele Io sono scacco giusto? Se tolgo la regina La regina la puoi solamente muovere avanti o indietro o la uccidatore No ma me la mangi sempre comunque Direi di si Però puoi farle indreggiare Posso fare? Puoi farle indreggiare Stupido Vabbè Bye bye Paolo come si dice in questi casi Io penso che sarei un po' out of the box Ha perso? Ma che ha fatto ma è pazzo? Dai Ah no Cazzo E' come se hai buttato 110 euro proprio Ma abbiamo firmato un contratto? Ma guarda Vale molto di più la tua parola con 11.000 persone che qualsiasi foglio di carta Bevi sì Bene Piscio di mucca Ho perso? Ho perso Probabile Grazie per avermi scammato la subs Grazie Antonio il professore Non hai perso Possiamo rispondere a questa giocata anche in maniera discreta Leva la camera Pippa cocaina come al suo solito E' l'ultimo kick Per cercare di salvare una situazione che è Tutti i soldi che fa dove li reinveste Tu mi hai scammato la cosa La La Rocco Mi hai scammato Ma io non sapevo come funzionava Potevi mangiarmi 15 torri Potevi inforchettarmi 16 volte Ma vabbè Ho perso Non male come mosso Non male Potevi farlo col cavallo Ma vabbè Eh vabbè ragazzi ho perso Mi dispiace Oh mi facevi prima da donare direttamente 110 euro a Paolo La partita è stata solo una formalità Bello questo flame Non male Grazie Mico Lash Donnele a me la prossima volta i soldi 8 minuti e 30 Anche il dolore fisico unito alla beffa Io sono un babbo di minchia a scacchi E chiunque con un minio di cultura mi prende e mi prenda a schiaffi finchè non piango Qua puoi ancora fare un bel po' di trade simpatici Ah ho perso la partita Ho perso No Sì ho perso Ah proprio così Scacco matto Scusami No no vabbè 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 Scusami No 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 ma questa cosa è molto più grave di quella Ma io oggi non nemmeno Scusami Paolo vieni qua Però 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 Scusami Aspetta perché qui chiamo il giudice Enrico Hai aiutato No ma ragazzi Hai baffato il morale di Hank Fu lo sbaglio Era sull'orlo di buttarsi dal precipizio Io mi sa che mi sono rotto una nocca eh Ah Ehm No no ho detto puoi ancora fare cose ho detto No 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 L'hai motivato o sbaglio Vabbè ho capito ho motivato Vabbè dai sub li dovresti pagare tu Bypass Adesso queste sono illazioni Non sei stato attento al tuo re Hai guardato solo il re avversario Dai che fallito Da Castiglioni Con furore SKS KS 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 Vabbè Quindi non solo mi ruba Ruba la mia immagine La sfrutta per far ridere Un paio di ragazzi in più E poi mi prende anche soldi No Andrea così io non ci sto Così io non ci sto Scusatemi Scusatemi Ma poi almeno che i tuoi fami venissero a guardare i miei gameplay di merda di League of Legends No neanche quello Neanche quello E' proprio un'inculata senso unico Andrea Io no ti mangio anche le patatine Ti mangio anche le patatine No 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 Ti mangio i piselli crudi Sul gelato No mi sono rotto una nocca Comunque Ehm Paolo vorresti scusarti per tutto Ma scusarti di che Ti sei rotolato nella merda E io le ho mangiato un po' di più Andrea Ma scusarmi di che Era una Una lotta fra galli Era una merda da guardare Per chiunque sappia che cosa sono gli stati Grazie Paolo Iveolo per le 22 sub Vaffanculo Andrea Vaffanculo Tu hai le tue 22 sub di merda Grazie linee per le 22 sub Vi ricordo ragazzi Guarda prega la madonna che Guarda prega la madonna che Non abbandono noi Perché giuro ti rubo il lavoro Guarda Finisci a A spazzare dei condomini Delle peruviane eh Finisci male Andrea Prega la madonna Ti scambio il pubblico E che ma Con clash faccio tipo la mafia Giapponese Cazzo Ma te la sei presa così tanto No Che non me la sono presa con il tanto E' semplicemente una legge E' la competitività Ma adesso scusatemi Devo ritrarmi Ritrarti Scusatemi 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 Ho fatto una partita indiavolata Scusatemi eh C'è scritto qua Ho fatto 3 5 errori 3 errori gravi E un'occasione mancata Te Paolo? Al mio dice che c'ho la mamma puttana Il mio Scusatemi Tua mamma è una prostituta Chiede Grazie Paolone Grazie mille per questi 22 sub Spero Prego Ringrazini di noi Mi taglio le vene Andre vado a dormire Che oggi non devo nemmeno streamare Ma è sempre piacere Essere il tuo ospite Ciao Enrico E ciao chat Fate bravi eh Grazie a te Paolone Paolone fermati Bro ti sei fatto tanto male Sei uno scemo di merda Non lo fai No 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 Non mi sono fatto male Solo che così non mi viene il libido Ti volevo dire Siamo pronti per una piccola rivincita Questa volta per decretare il campione di Twitch Italia nazionale degli scacchi Trammettere Ma campione di che bro Era uno spettacolo di merda Ma ci siamo lanciati addosso gli stronzi Ma c'è qualcuno che sa giocare Che ha visto cosa parlare Dice vabbè Sono bravi Io non penso neanche alla mossa dopo Io penso alla mossa prima Questo è quello che penso io Ho penso Ho drollato prima E basta Questo è il mio ragionamento strategico Grazie Carciofo Va bene Paolone Ehm Io rifarei un'altra partita tramette Visto che Grazie Falsiol Visto che Ma poi un'altra cosa Non adesso Non adesso Andrea Ma doniamoci 110 euro a testa Stiamo finanziando Amazon 22 Va bene Non so se è legale Ma si Diciamo che non lo facciamo E poi lo facciamo Una cosa un po' all'italiana Aumma aumma Ehm Va bene Ti ricordo che c'ho La fidanzata La polemata Ehm Ti volevo chiedere questo Paolo Ciao Ehm Ci saresti per una rivincita Solo per l'onore Faccio fare le cinture La cintura Senza soldi Non credo sia morto Albano che Arrisi No Proprio prima di venire ospite Mi sembrerebbe Non è morto Albano I delfini Vanno a ballare sulle scacce Paolo ma Ehm Va bene Mi piace che questa è la mia prima vittoria Ehm Nel mondo mio professionistico degli scatti Ma che Ma perché se ne sta bantando Ma è pazzo Ma sei tu che dicevi che giocare Mi sono infilato due di te negli occhi e ti ho fatto vincere per sbaglio Ma mentre vedevo quella torre Ma comunque anche l'hai suggerito Cioè quello lì era proprio lo stato brado Ma ti ho anche rispondito Andava nel vuoto Tu gli hai dato una speranza Io continuavo a mettere in pressione Rimpazzare il tempo Ehm Guarda il tempo Mi davo consigli sbagliati Ero un modificatore Poi arriva Hank Scusami Ehi Puoi fare dei pay trade Ma gli hai chiamato Lo scacco matto gli hai chiamato Mi hai rubato 50 euro Enrico Adesso lascia stare Ma Paolo sei un irresponsabile Vai l'alfine in mezzo al cazzo Mettilo in avanti Attacca che con quello Adesso Adesso scusami Lasciamo da parte il discorso dello streaming Mi hai abbandonato Qua c'hai più views Va bene L'ho accettato E' un po' come la fidanzata Che dici fa un cento estetico E poi ti lascia come uno stronzo Va bene La vita La vita è fatta anche di queste cose Si migliora e si cresce Però cazzo Ma devi Hai dei trade positivi Ma tu mi fai rovinare Ma tu mi rubi soldi Ma ti pare che io so cosa sia un trade? Si adesso dai Un trade Un dreadlock Rasta c'hai Non mi ha suggerito Non mi ha suggerito Vogliamo Io ho detto per lo show Ho detto per lo show Ci sono ancora dei trade da fare Non ho voluto dirgli dello scacco Intendevo dei trade lì in mezzo C'era la torre che poteva essere mangiata Il cavallo che poteva essere mangiato Con la regina Dei trade così Per Goliardia Non ne avrei mai detto Poi vincere la morte Per Goliardia Con una mossa Mi ha messo l'ottomato E' la Goliardia E' la mossa mia Oh grazie all'etra E' la mia mossa dall'inspirazione stata Cosa c'è in track? Scusami ma io qua voglio un Hank contro Paolo eh Oh madonna Ma è E' il dramma più finto di Twitch Almeno mettiti in controllo Non lo so Aia Comunque mi diverto sempre un sacco Dai non mi di Non mi di Come si dice? Di lungo? Di lungo Non mi di lungo di più Sono molto bene Ciao ciao a te E fa dei bravi Dimmi quando ci sei Quando vuoi tu Per una piccola Ma andescai su Whatsapp Non mi devi nemmeno invitare pubblicamente Lo so che mi fa piacere Dai Va bene Un bacio Ciao a te 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 Mi sono dimenticato